Inviare una newsletter. Dalla barra di modifica, icona gestione newsletter, puoi inviare una newsletter. Clicca su Crea newsletter per iniziare la creazione. Puoi scegliere il nome, il mittente, i destinatari, selezionando un gruppo, e l'oggetto. Puoi scrivere la tua mail nel campo sottostante oppure partire da un modello. Clicca su Modelli per utilizzare uno dei template mail preconfigurati, oppure una mail che hai precedentemente realizzato. Con la versione Professional puoi salvare una mail che hai creato cliccando sull'icona floppy.